Un compleanno, un traguardo importante, ovvero il 25esimo anniversario dell'elisoccorso a Bologna. Naturalmente parleremo con i nostri ospiti che ci racconteranno un po', ripercorreremo insieme la storia di tutti questi anni e poi cercheremo di capire il modus operandi, come lavorano tutte le persone che sono impegnate nel garantire questo servizio che lo ricordiamo opera tra le province di Modena, Bologna e Ferrara. Diamo il buongiorno e il benvenuto all'ottor Giovanni Gordini, direttore del Dipartimento Emergenza e Urgenza dell'Ausla di Bologna e a Giovanna Spadaccino, infermiera impegnata quotidianamente sul campo, anche lei da più di 20 anni, una lunghissima esperienza di cui oggi ci avvarremo per capire come sono un po' le dinamiche all'interno dell'elisoccorso. Cominciamo con lei, dottor Gordini, un compleanno importante, era il 14 giugno del 1986, andiamo un po' indietro con la memoria e cerchiamo di capire che cosa è successo quel giorno. Sì, andiamo un po' indietro, domani saranno 25 anni, era il periodo in cui il sistema di emergenza bolognese, emiliano-romagnolo stava certamente crescendo, si stava sviluppando, forse all'epoca l'elicottero poteva sembrare perfino una cosa avventurosa e poteva sembrare un po' la ciliegina sopra la torta, direi che non da oggi siamo convinti che la torta del sistema dell'emergenza si sia sviluppata bene, l'elicottero oggi è una tappa molto abituale, rutinaria, uno strumento quotidiano che usiamo per poter fare in modo che i pazienti in tutte le zone della provincia, non solo della nostra, ricevano rapidamente l'equipe di soccorso più adatta per riuscire poi a seguirli bene sul posto e a portarli nella rete ospedaliera. È stato il primo elicottero ad alzarsi in volo in Italia oppure… Beh, è stato uno dei primi, quella era un'epoca in cui c'erano diverse sperimentazioni, la primissima fase, quella che appunto partì il 14 giugno, fu una prima fase sperimentale che poi fu confermata, anche a Ravenna negli stessi mesi partì con una sperimentazione un anno dopo partì poi il servizio rutinario, la nostra regione era partita tra le prime a sviluppare il sistema di emergenza e il sistema 118, tant'è che il 118 come numero è stato attivato per la prima volta a Bologna qualche anno dopo nel 90 e certamente il nostro elisoccorso è stato tra i primi, dopo è sempre andato avanti fino ad arrivare a questi 25 anni. Ecco, quasi tutte le città italiane hanno un servizio di elisoccorso o c'è ancora qualche città italiana che è rimasta fuori. Beh, c'è una buona copertura direi più su scala sovra provinciale, nella nostra regione ce ne sono tre che sono Bologna, Parma e Ravenna e poi c'è quello che copre prevalentemente l'area penninica che è quello di Pavullo, ogni regione ne ha tre o quattro in funzione della vastità e del numero di abitanti, direi che ormai sono coperte un buon 80% delle regioni su scala sempre sovra provinciale, diciamo che si va dal milione e mezzo a due milioni di abitanti in su come area da coprire per avere un senso di efficienza oltre che di efficacia. Ecco, parliamo invece con la nostra infermiera Giovanna che da più di vent'anni mi sembra ad aver capito presta la sua opera al servizio 118. Lei innanzitutto che ruolo ricopre e come si svolge una giornata tipo di lavoro? Allora, il mio compito è duplice. Io ho un ruolo in centrale operativa 118, cioè filtrare le chiamate e gestire l'emergenza con l'invio di vari mezzi a seconda della necessità individuata, per cui dall'ambulanza che noi definiamo basic all'elicottero che per noi è avanzato come soccorso. L'altro ruolo è quello che svolgo all'interno dell'equip dell'elicottero come coordinatore di volo sanitario e quindi ecco, quello è un ruolo che per me è molto importante, è un ruolo di operatività in cui oltre a gestire le comunicazioni radio, utilizzo anche per aiutare le persone. La giornata tipo in realtà è una giornata di attesa, la giornata in cui siamo in attesa di un'attivazione che si svolge di solito molto velocemente, per cui dopo ci dobbiamo muovere in fretta e rapportarci con le varie ambulanze con cui lavoriamo sempre e le varie zone che possono essere montuose di tipo pianura, abbiamo una serie di attivazioni molto differenti. In media, dopo quanto riuscite ad arrivare sul luogo dell'emergenza? Noi su Bologna e provincia possiamo avere da 4 minuti di attivazione per intenderci nella zona sud sopra Monte San Pietro, Monte San Giovanni di Bologna a un 25 minuti, zone ferraresi, le zone un pochino più lontane, 20-30 minuti, insomma su quelli che noi definiamo interventi primari. Poi va bene, ci sono gli interventi secondari che sono i trasporti da ospedale a ospedale di pazienti critici che necessitano di un'equip avanzata, per cui quelli abbiamo anche dei tempi più lunghi e arriviamo anche all'ora di volo. Dottor Gordini, si parla moltissimo in questi ultimi tempi di incidenti stradali, soprattutto anche di infortuni sul lavoro, ma naturalmente ci sono anche fattori diversi come l'infarto, l'ictus che necessitano naturalmente di un'attivazione più che immediata. È possibile fare anche per grandi numeri una scala di quelle che sono le emergenze più frequenti e magari anche gli orari, i giorni della settimana dove magari si verificano più emergenze? Sì, direi che soprattutto per quello che riguarda i traumi, gli eventi traumatici che sono abbondantemente nei tre quarti dei casi legati ai traumi della strada, gli orari peggiori sono quelli dove c'è poi anche più traffico e quindi il tardo pomeriggio e i giorni feriali, in questi orari, i festivi sono legati poi ai picchi di movimenti per attività di vacanze etc. È importante anche l'attività dell'elicottero, come diceva lei, non solo per la traumatologia, ma anche per guadagnare tempo per quei pazienti che hanno magari malori, che possono in una prima fase essere identificati come malori, poi si capisce che alle spalle possono avere un infarto o comunque un dolore cardiaco, oppure invece ictus, quindi periti di coscienza, sindrome neurologiche, perché attraverso il sistema che è in grado di mandare e l'ambulanza e l'elicottero poi si riesce a portare il paziente rapidamente, sia guadagnando tempo che anche portandolo nel punto giusto della rete ospedaliera dove possono trovare la risposta mirata per l'infarto o per lo stroke, quindi tutte le varie terapie di riperfusione dei vasi. Quindi insomma in testa alle emergenze restano gli incidenti stradali? Sì, soprattutto per un mezzo come questo che ha un'ampissima zona di attività in cui possono essere soccorsi i pazienti che nei diversi punti, Bologna-Modena soprattutto, due terzi, un terzo e soprattutto la zona penninica dove chiaro che l'elicottero consente molto di abbreviare i tempi sia di arrivo che soprattutto per tornare indietro e portare il paziente in ospedale al posto giusto. Concorda con queste incidenze del tardo pomeriggio? Sì, assolutamente. Ma da che cosa dipende? Avete fatto uno studio su questo? Magari un calo di attenzione? Può essere, io ho notato ad esempio aumentano gli infortuni sul lavoro come statistica, per cui probabilmente la persona è già con la testa da un'altra parte, si distrae e quindi capita più di frequente che si facciano male durante il lavoro. Visto che appunto lei raccoglie anche credo insieme ad altri colleghi le telefonate che arrivano, che segnalano appunto la necessità e l'emergenza. Che cosa è utile? Quali indicazioni sono necessarie per un buon intervento? Perché immagino che ci voglia anche un po' di collaborazione, capisco che magari spesso le telefonate sono concitate. Sì, in effetti le persone che chiamano il 118 sono in una situazione di ansia importante, perché è un evento acuto che spaventa e la loro necessità è avere il soccorrittore subito presente. Quello che per noi è importante è che ci diano l'indirizzo, quello che noi definiamo il target dell'evento per noi è fondamentale. Infatti durante l'intervista telefonica spingiamo molto su questo. L'utente ha la sensazione di perdita di tempo, ma in realtà quello che noi spieghiamo è che finché non riusciamo a capire bene dove si trova e soprattutto per l'invio dell'elicottero ad avere punti di riferimento visibili dall'alto, che possono essere un campo sportivo, il campanile di una chiesa, noi restiamo al telefono con la persona. Contemporaneamente però una volta avuto l'indirizzo ci sono altri infermieri che inviano l'ambulanza, quindi questa perdita di tempo in realtà non esiste. Dopodiché una volta individuato l'evento passiamo a quella che viene definita l'intervista sanitaria, cioè cercare di capire bene che cosa sta succedendo ed eventualmente supportare la persona che è in difficoltà dandogli consigli che possa mettere in atto, compreso il massaggio cardiaco, la ventilazione in casi proprio più acuti. Capita più di frequente che siano magari parenti a chiamare o proprio la stessa persona riesce magari a parlare con voi? No, molto di frequente chiamano parenti o per incidenti stradali gli astanti. È difficile riuscire a parlare con la persona coinvolta nell'incidente o la persona che sta male. Sono le persone che circondano, che si prendono questo tipo di responsabilità e collaborano insomma con noi. Com'è la percentuale di collaborazione del Dottor Gordini? È buona? La gente riesce a rispondere? C'è un po' di collaborazione? Sì, direi che nel tempo è andata migliorando, questo è uno degli effetti di un sistema che ormai è consolidato in questa città, in questa regione da molti anni, mentre all'inizio fu fatta anche una campagna di informazione alla popolazione, non solo per usare il 118 ma anche per dare le giuste informazioni. Oggi un po' anche perché la tecnologia è cambiata, moltissimi chiamano col cellulare, quindi si ripetono molte chiamate magari per lo stesso evento, però la gente ha un po' più l'abitudine a capire che appunto, come diceva prima, Giovanna deve da un lato spiegare bene dov'è e dall'altro lato, poi nelle fasi immediatamente successive a noi serve capire quali sono i problemi aperti, diciamo, quindi per un trauma come si è verificato il trauma, di per sé alcune cose accendono le spie della massima urgenza per noi, se una caduta è dall'alto, se la bicicletta, se il paziente era su una bicicletta, sul motorino, è stato proiettato, quindi ci sono alcune modalità con cui il trauma si è verificato che ci spingono a mandare questa o quell'equipe, nel caso sia fuori Bologna, a usare l'elicottero. Ecco, prima l'infermiera diceva appunto che ultimamente sono molti casi di motociclisti. Sì, in effetti a primavera come cambia il tempo, le giornate di sole e le giornate festive portano i motociclisti soprattutto nella zona montuosa della futa, ecco, ad andare in moto e andare in moto abbastanza velocemente e quelle curve sono pericolose e quindi con l'elicottero lavoriamo come, da un punto di vista numerico, molto con motociclisti coinvolti in incidenti stradali. Ecco, Dottor Gordini, vediamo qualche numero che avete a disposizione, magari riferito a questi ultimi mesi, ecco, che può esserci utile. Certo, l'attività, diciamo, negli ultimi anni si è stabilizzata proprio perché... Ok, bene.